Buongiorno ragazzi, in questo momento mi trovo sul passeo marittimo a rilassarmi un attimino la vita e godermi sto panorama. Sì, proprio sì, oggi sì. Più tardi si va a lavorare, quindi è iniziata la lotta. Questa è la gente che passeggia, è rilassante, oggi fa caldo, solo le 11 qua e fa caldo. Ho rotto il cazzo da bici. Continuiamo perché mi è caduta la bici e volevo alzarla. Che spettacolo! Ragazzi, vi posso comunicare che è pieno di gente, ma veramente andiamo a farci una passeggiata alla Rosa dei Venti. Vediamo che arria tira. Spettacolo ragazzi, veramente. Sta facendo una delle giornate a febbraio spettacolari. Pieno di inglesi. L'hanno liberati. E' pieno. Questo qua, questo locale è sempre pieno con smart working, ma sia la gente normale che quello con smart working. Stanno qua dentro, a questo localino. Mamma mia la gente che c'è. Madre mia che caldo che fa, cazzo sotto il sole. Fa un caldo tremendo. Oggi solo mare, vi faccio vedere. Il moito. Potono dire coppie spettacolare ragazzi, veramente. Qua c'è sempre gente, non si potrebbe fare il bagno, non so perché, ma mi sa che non ho tolto il cartellone comunque. Però c'è sempre gente, questo pezzetto. Vamos, alla Rosa dei Venti. La Marchesina. Ma che bella camminata, vicino al mare. Una bella camminata vicino al mare ci sta. Per respirare un po' di aria di mare. Questa,... che sta partendo. Che l'al French. Dio. Lanzarò. ecco qua la rosa dei venti sta lavorando di brutto mi hanno detto però non conosco nessuno dentro, non entro Daniele non c'è quindi non entro guardate, guardate ammirate ragazzi vi faccio quest'altro pezzetto e poi lo manderò questo video che cazzo di calore che fa non mi sto lamentando ragazzi che sono sotto il sole e fa caldissimo anzi sono felicissimo che sta facendo queste giornate bene adesso vamos ragazzi questa è buona onda ragazzi questo è il titolare del buona onda da giuventino peggio di me quando venite qua venite a trovare si trova alla caglia di inglesias no veramente è un locale doc si sta da dio vi tratta bene ve lo faccio vedere dentro già ve l'ho fatto vedere due tre volte comunque questo si chiama buona onda un locale che da quant'è che ce l'hai? 14 anni 14 anni che è qua sul ciclo no il locale è bello mi tiene al sottovento ok ragazzi con questo pezzetto di video vi lascio lo pubblico e a domani grazie a tutti